Parliamo adesso di agricoltura e di incentivi e in particolare di due bandi, uno dell'Inail, l'altro dell'Ismea. Il primo vuole aiutare le micro e piccole imprese a rinnovare i mezzi di lavoro, garantendo maggiore sicurezza e minori emissioni. Il secondo invece punta a finanziare progetti di sviluppo nel settore. Rino Cardone. Un finanziamento a fondo perduto fino al 40% dell'investimento se il titolare dell'impresa ha più di 40 anni o fino al 50% se ha un'età inferiore. È quanto prevede un bando gestito dall'Inail, l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Obiettivo del programma è di favorire le micro e le piccole imprese che operano nel settore della produzione agricola per l'acquisto di trattori, di nuovi macchinari e di attrezzature di lavoro con minori emissioni inquinanti e maggiori garanzie di riduzione del rischio infortunistico. La presentazione delle domande è ammessa fino al 29 maggio. Per ricevere informazioni e assistenza su questo bando, contattare il numero telefonico 0660 01. Questo programma è volto a favorire altresì il ricambio generazionale in agricoltura. E si affianca a un altro bando, quest'altro dell'ISMEA, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, con il quale si finanzia la realizzazione di progetti di sviluppo nei settori della produzione agricola, della trasformazione, della commercializzazione e della diversificazione dal reddito agricolo.